bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e intanto buona domenica oggi ragazzi ci sono un bel po di news riguardanti ovviamente la nuova location che ieri alle 9 è finalmente emersa dalle acque sto parlando ovviamente di Atlantis oramai soprannominato Carl perché c'è stato un problema tecnico di probabilmente non lo so nomi sul finale e quando abbiamo aperto la minimappa avevamo tutte le location nominate e poi c'era Carl che forse il nome del progettista ma adesso è stato sistemato dovrebbe essere coral castle intanto volevo dirvi subito una cosa ragazzi credo che oggi mi troverete in live su twitch per fare la seconda prova di qualifiche alla ccfn ieri abbiamo fatto 33 punti eravamo lì lì però non ce l'abbiamo fatta magari oggi ci riproviamo ciao 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 allora andiamo vi ricordo velocemente due cose ragazzi grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno non vi dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi che è un argomento davvero importante ovviamente sto parlando della fase finale della mappa come vedete meravigliosa mi piace tantissimo poter rigiocare con la mappa che eravamo abituati a vedere la scorsa season mi piace tantissimo anche il fatto che ci sia appunto la nuova location il coral castle in questo nuovo abbassamento dell'acqua avvenuto ieri sono praticamente emerse tutte le spiagge sulle coste e ovviamente è cominciata anche tutta la serie di eventi che secondo me caratterizzeranno in qualche modo una possibile storyline sto parlando ovviamente della navicella spaziale eh sì ragazzi perché ieri finalmente emersa dietro scogliere ho fatto un video su youtube dove trovate le soluzioni per completare la sfida che è un po' macchinosa cioè dovete andare alla navicella poi dovete andare a cercare i pezzi mancanti poi dovete tornare alla navicella poi dovete fermare il costo del lancio però navicella parte va in cielo e ragazzi spuntano di nuovo 4 rift era davvero tantissimo che non vedevamo i rift in game parliamo addirittura del capitolo 1 di fortnite sicuramente molti di voi avranno avuto modo di provarli e la cosa che ovviamente si sta un pochettino vociferando nei vari forum è che i 4 rift potrebbero essere dedicati ai 4 visitatori che ancora mancano da scoprire per quella che riguarda la grande storyline di fortnite iniziata nella season 3 oramai due anni e mezzo fa e continuante addirittura fino alla season 3 del capitolo 2 i rift sono davvero tanta roba li potete utilizzare centrate dentro venite sparati con una specie di teletrasporto in aria e potete muovervi molto più comodamente ma abbiamo delle notizie anche interessanti perché sappiamo ragazzi che nonostante sia arrivato l'abbassamento dell'acqua la patch 13.40 è praticamente confermata per questa settimana perché i test server sono finalmente iniziati e anzi quasi finiti hanno fatto 308 test per questa patch e quindi si mette al secondo posto come aggiornamento per quello che riguarda appunto questa season 3 del capitolo 2 ci sono tanti aggiornamenti perché tanti prove perché probabilmente quasi sicuramente arriveranno anche i veicoli ovviamente l'altra grande novità che ci è arrivata insomma con l'abbassamento è stato appunto il coral castle e il coral castle nasconde qualcosa di veramente molto interessante che potrebbe essere invece esso la storyline principale di questa season e quindi anche un probabile evento perché non si è mai parlato di eventi in questa stagione ragazzi siamo tutti troppo concentrati sul competitive arrivano le macchine poi c'è l'acqua che scende e poi c'è la fortiglia che si apre questo succede quindi diciamo che ci siamo un pochettino persi via intanto meraviglioso ragazzi ecco qua un'immagine separata del tempio davvero meraviglioso il tempio principale del coral castle infatti della location che appunto sta a significare quello che riguarda Aquaman, Atlantide e tutta la storyline che sicuramente conoscerete e di cui abbiamo parlato ma questo oggetto ragazzi invece è qualcosa di molto curioso e di molto interessante va assolutamente studiato all'apparenza sembra un pesce dentro una specie di bolla formata dall'acqua la cosa particolare a parte che non ha assolutamente senso che sia lì un pesce dentro la bolla d'acqua ma la cosa davvero particolare è che questo pesce è animato e sì perché potreste entrare nel nel tempio e trovarlo in tre diverse varianti trasparente oppure con il bagliore o addirittura arancione non sappiamo assolutamente il perché sia reattivo questo pesce ma molti cominciano già a dire che è qualcosa di simile al doomsday però riguardante tutta la parte marina della mappa io sinceramente non ho ancora idea anche perché l'ho visto solo in foto non sono andato proprio a guardarlo magari adesso che siamo in live su Twitch possiamo dargli un'occhiata con calma e cercare di studiarcelo insieme ovviamente non appena si saprà qualcosa di più lo saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ovviamente questa è una cosa importantissima ve la leggo è un tweet importante lo parlate anche voi il cinese non è che lo parlo solo io ho parlato anche voi è un tweet importantissimo ragazzi di Fortnite China scherzi a parte lo andiamo a tradurre in inglese perché esiste un tweet importantissimo di Fortnite China perché vi ricordo nuovamente che tutta la sezione ufficiale di Fortnite gestita dalla Cina è praticamente indipendente mi spiego meglio nonostante la sede americana e la sede europea lavorino insieme e quindi sappiano tutto quello che sta per uscire ovviamente prima di noi giocatori la sede cinese sa le stesse cose ma fa quel cavolo che vuole perché loro hanno praticamente questa politica e quindi loro spoileranno tranquillamente e questo tweet appunto è davvero molto interessante perché dice le macchine arriveranno sono sulla linea arriveranno a breve in poche parole il mare e l'aria sono già protette ricoperte con i veicoli infatti ci sono le barche e ci sono gli elicotteri e questo è interessante quello che sta per arrivare quale carriera vorresti scegliere scegli una delle tue opzioni e le quattro opzioni sono queste amphibious surfing speedboat quindi delle barche che sono in realtà anche anfibie quindi dovrebbe voler dire che possono andare anche sulla terra break through the sky ultra fast helicopter quindi elicotteri ancora più veloci se u bites with ferocious big shark poter vedere quelli che sono morsi dagli squali feroci oppure guidare delle drag racing rift car quindi guidare delle mega macchine drag da drift è una cosa davvero incredibile ed è un posto ufficiale voi non leggete fortnite così perché la traduzione giustamente lo traduce in maniera sbagliata ma ci fa capire che ovviamente ci siamo ragazzi e soprattutto perché hanno voluto dare quattro opzioni ancora non sanno bene come inserirle nel game oppure ci sarà una possibilità di fare carriera nella prossima season di fortnite mi spiego magari ognuno potrà scegliere un percorso e portarlo avanti insieme al pass battaglia non lo so ma sarebbe veramente una figata incredibile perché vorrebbe dire cominciare ad integrare delle specialità per ogni personaggio che potrebbe intraprendere una carriera è un po' macchinosa ma è un'idea secondo me geniale prima di salutarvi ragazzi voglio ricordarvi una cosa per tutti quelli che sono appassionati di wallpaper del telefono se andate sulla pagina Weibo W-E-I-B-O Fortnite Fortnite Weibo trovate oltre ai wallpaper precedenti anche gli ultimi quattro che hanno inseriti quindi sono davvero molto molto carini e danno ovviamente un tocco in più al vostro cellulare insomma ragazzi io credo che più tardi potreste trovarmi live su Twitch vi ringrazio però tanto per avere guardato il video news di oggi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate di là fra un po' ciao